Una mini nutria, povera, no non ti faccio niente, non ti faccio niente, stai tranquillo Sei appena nata tu, ciccia, ma guardatela quant'è carina Eh, ciao, non riesci neanche a stare in piedi, eh, ciao, ma che carina che sei Sei buona, non ti faccio niente Non ti faccio niente, stai tranquillo Va bene, per inaugurare la telegomming del secolo scorso, un cavernillo Non era quello che cercavo, ti sei attaccato tu, eh, io voglio farci acquistare Ciao 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 Tutto in diretta, aveste visto quanto ci vuole recuperare un pesce con una canna morbida? E non è un pesce piccolo e neanche poco compattivo. Quando vi dicono quelle cazzate, scusate, quelle cazzate che per recuperare i pesci grossi ci vogliono le canne con la schiena, fate con noi, fate un bel sorriso e passateci sopra. Grazie a tutti. Proviamo a mangiare se c'è un altro. Grazie a tutti. Non solo c'è un altro, ma questo è anche più grosso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.